Ciao Maurizio, goditi l'applauso della piazza dei matti nostri, si rivede e si rincontra, si accomodi in varie parti d'Italia, esatto, allora io ho scoperto che è vero che ti conosciamo come attore comico, cabarettista, però in realtà hai studiato per fare un altro mestiere? Sì, due altri mestieri, uno il medico però mi sono fermato al quarto anno, poi dopo da lì sono diventato grafico in una bella scuola milanese che si chiama Politecnico di Design e quindi carissima ho svenato i miei genitori perché volevo fare il grafico, però è prevalsa l'idea del comico perché io fin da ragazzino non ce la facevano, noi diciamo pataccate e quindi non ce la facevo, però è rimasto lo spirito medico di far star bene gli altri, quindi prevengo... Sorridere e ridere fa bene. Eh, tento di prevenire un po' di malattie facendoli ridere. E hai aiutato molto quando ti abbiamo scoperto con Renzo Arbori in quelli della notte, vediamo. Volevo sapere un attimo dal nostro Ferrini che gira tutto il giorno e che è un vero lavoratore di rete venduto di pedalò oggi. Niente, abbiamo fatto questo gran giro nell'entroterra, abbiamo fatto Rieti, Froginone, Latina, poi siamo andati a Vessano verso la Maiella, la Sciù, ci siamo venuti a Roma. Perché non avete fatto anche il gran sasso? Perché i pedalò può darsi che sul gran sasso... Ma scusa, ma sei andato mai neanche in un posto di mare? Noi abbiamo questa grande operazione di spingere al mare la popolazione. Era un programma molto ecologico perché quando andava in onda non c'era traffico nelle città, si stava chiusi a guardare e a sorridere con voi. Un personaggio, un programma che hanno cambiato la vita, in che modo? Ma intanto il rischio che ha corso Renzo, perché appena arrivati provavamo a casa sua il divano con pazzaglie e frassica e lui ci disse guardate che molto probabilmente non verrà capito e sarà l'ultima cosa che facciamo, perché tutto improvvisato e poi lui portò una marea di personaggi nuovissimi. Tutti i talenti sparsi per l'Italia telefonavano, scrivevano a Renzo e quindi lui dei gruppi napoletani, di giovani, ogni tipo di artista che non aveva avuto visibilità, grazie a Renzo arrivava in televisione e lui sceglieva la qualità. No, no, dico, immagino la segreteria telefonica di Renzo Arbore, passava mezza giornata ad ascoltare. Come lo hai conosciuto? Allora, io non sapevo che Arbore Lorenzo era nell'elenco telefonico e mi affidai alla fidanzata di Benigni all'epoca, Nicoletta Braschi Cesenate. Nella primavera del 83 girai in un teatrino di Cesena il San Biagio che cito perché è pioniere nella conservazione delle pellicole Biblioteca del Cinema feci un putpuri, un VHS con il meglio. Un VHS perché l'alternativa era il Betamax. Sì, che insomma non era molto comodo. Non era molto comodo. Il VHS sicuramente Arbore ce l'aveva. Allora lo diedi alla Nicoletta, la Nicoletta glielo infilò in tasca perché erano in rapporti un po' freddi e glielo mise a una festa in tasca. Perché dobbiamo ricordare che Benigni era stato scoperto da Arbore nell'altra domenica che era il programma antagonista a Domenica Infanta da Corrado. Che io guardavo sperando un giorno. E quindi c'era questo legame. VHS infilato in tasca e... Un anno e mezzo dopo... Quando tu già avevi dimenticato tutto. Sì, dimenticato tutto. Ad agosto mia mamma che è un po' corriando lì diceva Ah Maurizio, ha chiamato Arbore. Ha detto se lo chiami. Guardi, il numero è 06. Hai scritto? Sì, perché le signore hanno il terrore di sbagliare i numeri. Perché? 96, 8... Ma perché tu ti sti sei? Non lo so. Vabbè, certo. E poi da lì mi dice vieni tra sei mesi. E quindi ti sei presentato. E tra sei mesi arrivai. Il resto è storia. Il resto è storia. Anche il nostro Stefano era partecipante. L'Ori do Palatresi. In quel gruppo di persone. 1989. Uno dei tanti tuoi personaggi, la signora Coriamboli, spacca in televisione e viene intervistata da Gianni Boncompagna a Domenica I. Prego. Ma che bella villa che ha. Mamma mia, Boncompagna, cosa fa? Ma ho guardato la spilla. Appena arrivata, subito. Ho guardato la spilla. Ma la natura vuole il suo sfogo. Ma che è il suo sfogo? Sì, la Coriamboli. Potrebbe essere mia madre. Come mia madre? E quant'anni ha l'eschi? 54. Io 26, vedete che... 26. Come tutti gli attori, tu succhi l'anima e la riproduci. A chi ti sei ispirato per la signora Coriamboli? Allora, di Rimpettaia, Ada Ronconi, mia zia Elsa, sorella di mio babbo e mia mamma. Quelle le principali. Poi rappivo, carpivo tutte le signore che incontravo. Hai mescolato, frullato e rielaborato in chiave ferrinesca. Ferrinesca. Tra l'altro va detto che la signora Coriamboli, l'anno scorso anno, è stata ballerina per una notte, ballando, insieme a un altro pezzo da 90. Nino Frassi. Arboriano, filo arboriano. Arboriano doc. 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 Giorno, mi fai dire sarà para sì. Dico, ballanotte, dico, ballanotte, dico, ballanotte, dico, ballanotte, dico, ballanotte, no. Un affiatamento che è evidente, è lo specchio di un'amicizia molto solida. Grande, grande amico. So che Nino ti è stato molto vicino in un momento molto particolare. Io ho detto dei no da scemo purtroppo e questi no da scemo ero convinto però mi hanno un po' rovinato e tra quelli che mi sono stati vicino citerei Nino in primis, Renzo e anche Antonio Ricci. Sono tutte belle persone. Certo, un omaggio a Gianni Boncompagni perché io facevo, la Coriandoli nasce nell'80, io facevo spettacoli dal vivo però non mi chiamavo la signora Coriandoli, tiravo fuori la camicia e mettevo un foulard e parlavo in dialetto. Facendolo a casa di Gianni che ho frequentato per anni, mi ha dato la direzione giusta, mi ha dato il nome e poi mi ha detto rovesciamolo, lo vestiamo e parli italiano. Allora, tra i tanti no che hai detto, ce n'è uno del quale sei profondamente pentito, che ha a che fare con un segno geodecale dell'oroscopo di Paolo Forza. Eh, pure Verdone perché Verdone era collegato. Pure. Hai detto di no a Leone, a Sergio Leone. Ma non ero io, non ero io che lo diceva, perché io per due anni dopo quelli della notte ha traumatizzato nel bene tutti, però io mi svegliavo e dicevo comincia il film perché nulla era reale, persino la mia famiglia non mi trattava come prima. Ricevere un successo così pazzesco subito. Certo, bisogna essere strutturati. Ma con una van che pensavo di trasformare andava di moda. Ti è cambiata la vita. Ma è cambiata la vita, poi l'ho rimosso questo fatto. E dicessi di no per quale film a Sergio Leone? Troppo forte. Ha reduto fare la parte dell'avvocato di Sordi. Come no? Pensa a te. Eh, va bene così. Ha scoperto Clint Eastwood, è molto genio Ferrini. Amico mio, il passato non ci interessa, c'è servito. Oggi cosa sogni? Allora, sogno di avere, ma una cosa mia con la Coriandoli, dato il successo della Coriandoli, tesaurizzarlo al meglio, cioè trovare la morte come spaghetto col pomodoro, nel senso di ottimizzare la Coriandoli. E sto vedendo come fare. Però, devo dire, grazie a Fabio Fazio che mi ha ridato lo spazio, notorietà, tutto. Sia in Rai che ora la notte. Eh, va bene così. Maurizio, so che persona sei, quindi con tutto il cuore ti auguro ogni bene. Ed è bello che tu abbia riconosciuto il valore delle persone ringraziate, perché la gratitudine non è di questo mondo. Grazie, buone feste, Massimo Morico. È stato un grande piacere.